Ragazzi, nella prova scusatemi, nella gara maschile dominio di Van Aert partito, diciamo, un po' in sondina, un po' diciamo, guardingo e poi nel terzo o quarto giro, non ricordo ha attaccato e ha dominato praticamente la corsa. Secondo Eli Iserbit, un applauso anche a Iserbit e terzo posto per Vanturenaut Raga, subito un bel like mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti vi sto portando qui sul canale i video, commento delle prove, appunto, delle gare di ciclocross sia maschile che femminile un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi! Iscrivetevi al canale